Hello guys, benvenuti in questo nuovo video dopo il sondaggio che ho effettuato sul canale ebbene eccoci qui con la Rarity Collection per il 25esimo anniversario di Yugi diciamo che avrei voluto non spendere i soldi ma io deficiente che faccio vado a fare il sondaggio con la community ovviamente dice ah si spusta la Rarity Collection e ho visto un po' il contenuto delle carte molte non le capirò infatti lo chiamo un po' video meme del canale visto che sono un giocatore di vecchia data e mi ritrovo quindi io direi di procedere all'unboxing con le nostre forbicine dell'IKEA che sono le vere protagoniste del canale se magari tagliassero ma mentre appunto tolgo la plastica vi ricordo che se siete nuovi del canale vi piace un unboxing di Yugi O soprattutto i prodotti vintage iscrivervi al canale soprattutto anche se siete giocatori di Edison TenguPlant quindi di Rezoformat dato che appunto è il mio contenuto principale ma non nego mai anche di fare unboxing dei prodotti nuovi allora al tatto è veramente fighissimo il box come potete vedere questi lì leggere lì rilievi cercheremo di fare il box ma è incredibile ci sono riuscito a prima botta e ora apriremo appunto questi pacchetti che non mi ricordo quanti sono 24 quindi classicone e sono 5 carte per busta quale sarà la cosa divertente che probabilmente non riuscirò a riconoscere determinate rarità proprio perché non le conosco forse potrei riuscire a riconoscere diciamo le quelle per il 25esimo anniversario ma sono troppo vecchio per questo gioco moderno probabilmente è quello però appunto potremo avere una piccola base di partenza con diciamo caso che qualche volta volesse partire mi lasci e mi dice voglio giocare anche in modern di U è difficile però vedremo allora cominciamo ah il box l'ho preso in inglese ovviamente per risparmiare oddio i link quindi small world prima secret pot of desires come ultra poi ok abbiamo color by the grey questa la conoscevo come ultra perfetto io nel caso mi preparo anche le bustine protettive caso che dovessimo trovare una carta appunto per il 25esimo anniversario dico la rarità cosa quanto improbabile mo mi trovo tipo il va con de flea uuuu eee la tour questo è il famoso meme del canale eee niente quindi alfa master of the beast oh oh bella secret questa non so quanto sta ma devono andare a vedere i valori di card market però diciamo not bad feletti di luna e il cyber angel che questi li avevo li dovevo vendere quando era il momento opportuno ma non giocavo e non frequentavo i judy ce li avevo ce li avevo secret da appena usciti mi ero vinta ma vabbè e comunque se dovesse interessarvi altri box ho aperto le legendary collection abbastanza vecchiotte come quella 5d's in cui appunto c'è il max c che non hanno inserito qui dentro quello sono rimasto malissimo o mi sa abbiamo la quarter century o la collector perché bella brillante il lava golem oddio eccola qui in permanence da 25esimo anniversario oh e poi vabbè queste due beh 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 che dire che dire non ce fa schifo non ce fa schifo per niente e io poi diciamo se siete giocatori di modern penso che questo prodotto sia molto molto conveniente io onestamente vorrei prendermi un altro da tenere sealed per collezione ma che va di metterlo in futuro che non mi sembra malaccio l'artemis lava golem oh e questa qui pure che non mi ricordo come è in italiano però di base no beh quindi lava golem ce lo prendiamo e lo imbustiano probabilmente potrebbe valere anche poco ma ripeto ho difficoltà a riconoscere le carte delle rarità nuove probabilmente sarà appunto solo questa qui la rarità che non conosco però ci proviamo ok il compulsory io vorrei tanto un 3x di tour ultimate giapponese che bello poi alice for soul ok revolt secret oddio questa dovrebbe essere l'ultimate ocg si è lei è lei è lei ok io onestamente reputo nettamente superiore quelle nostre dcg e poi la tour di rarità c'erano una ultimate quella da assalpack assalpack come volete chiamarlo è veramente figa che l'ha presa a 10 euro grazie a un mio amico al ycs di quell'anno insomma di quando uscì mi piace sto prezzone ok called by the grave ok ghost bell abbiamo trovato questo ultra e il danger che cazzo chi era giacalope ok quindi di base qua metto soltanto quelle al di fuori della come si chiama della metto soltanto le ultimate le collector credo sia collector e le 25esimo anniversario oddio ce n'è una forse un'altra del 25esimo anniversario caospace cambiare idea super carina questa pure la fortina oddio questa mi sa potrebbe valere un pochettino quindi la mettiamo qui dentro ok rivedo non mi dispiacerebbe aprire un altro box in caso che arriviamo a 100 150 impossibile però lo dico ne apro ne giuro che me ne compro un altro subito e lo carico ah questa è la variant dell'altro credo lo so lo so che potrebbe non valere nulla però non redice quindi lo metterò qui si bravo cucciolino e lo striker dragon punto penso probabilmente una delle carte che dovrebbe interessarmi di più essendo dragon player si caso che dovessi tornare a giocare il modern o il t1 come vogliamo chiamarlo però per ora non mi interessa ok summon limit carina god slime galaxy ice eeeh la tour e il compiuto di oltre queste forse me le dovrei mettere da parte perché le vorrei giochicchiare ok la tour mamma mia dammi dammi la tour ocg dammi la tour ocg oppure il vera oppure il vera non mi dispiacerebbe o il vero con le flea ok qua ce n'è un'altra super brillante quindi potrebbe essere la quarter century ok abbiamo xe la donna il magician me la ricordo rota secret molto carina ok ok olè sì fosse il dig no bene cioè scusate se magari non esulto il gioio ah mio dio questa ma purtroppo io mi rendo conto che sono il ultime giapponese ma io sono difficile no queste ultime giapponese su cui comunque si ripeto non conosco bene le rarità e magari alcune carte a parte l'impermanence questa questa la conosciamo bene perché per un periodo ho giocato a master 2 però ripeto non mi son trovato davanti a carte effettive delle nuove rarità sono proprio un boomer di merda uh con più story secret bello maledetta carta del 2013 oh elan saint fairy dragon questo sempre figo che ce l'abbiamo ghost in realtà c'è stato un episodio bellissimo di quando lo trovai che letteralmente c'erano due bustine espansione di antica profezia la faccio scegliere a un altro mio amico mi prende un pack e trova diciamo il sincro con lo zombie io trovo lui ghost io godo ok forbidden oddio un altro venticinquesimo emily matched questa pure potrebbe venire un pochettino ok mamma mia l'apatia sto video porca troia iscrivete al canale se siete diventati apatici come ci sopporteremo a vicenda nella nostra apatia vaffa no si dice penso che nella carta mi stai guardando storto da dire mentre sto risolto il baron de fleur però è super quindi se ne frega così un cavolo soul secret e lava golem ultra le venticinquesimo anniversario fuori vai forbicine dell'ikea sorprendetemi fossil dig preparazione dei liti alpha vedo qualcosa di interessante uu caruccio oddio scusate con la filpatia suo di lol per chi almeno io non ci gioco manco più al lol ma cioè vedete in che stato di apatia sono arrivato sto giocando solo giochi co-op con le persone che conosco ma caso che appunto vogliate far parte della community qui sotto in descrizione ci sta il collegamento sia alle mie pagine social che appunto al mio discord caso che siate interessati ok vedo anche qualcosa di interessante sotto lo compulsori reasoning bellissimo oh oh dark ruler no more oh questo dovrebbe essere ultimate giappo collector cazzo sei tu ma è spaziale sta carta tu dovresti essere ma io mi confondo malissimo ammazza due in un pack in un pack goduria ma che è così spessa sta roba ammazza quanti insulti mi beccherò dice ma che cazzo stai apri non sai manco che stai apri è vero io non so manco cosa sto aprendo l'ho fatto solo perché ho fatto il sondaggio per memare l'ho fatto e mi sono sentito in dovere di farlo albats luna vittorius uh cambiare di ultra non mi dispiace figo 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 certo trovarlo collector rare o quantomeno 25esimo anniversario come il baron de flair che è qua dentro guardate qua dentro c'è il baron de flair ma quello quarter center no oh nibiru porca droga uh il blossom ultra ammazza cioè questo pure ultimate giapponese è giapponese dico giapponese però è ultimate ocg perché è diverso da quello di cg quello giocherei volentieri in edison e tengu anche il monopair visto che è limitato quindi non non ci fa schifo uno shifter venten lava golem oh ok sì penso che queste siano le altime giapponese guardate questo rilievo però oddio pure lui sarebbe figo da trovare direte ma non vale un cazzo lo so lo so che non vale nulla però sono carte che mi piacciono quindi io voglio trovare quelle che mi piacciono e poi caso che vi state interessati a qualche carta io vi ricordo che anche in descrizione c'è il mio store su card market o varie carte soprattutto mirante diciamo i giocatori di edison gott e tengu quindi caso che siate interessati andate a dare un'occhiata al device secret no no ultra ok ci rimangono 5 pacchettini per il max c sono veramente rimasto male però l'abbiamo trovato nella legendary collection 5 disc che probabilmente l'ho detto anche prima però caso che dovesse interessarvi andate a controllare ok niente ma io sono sicuro che tipo durante il video mi sarò saltato magari una gold card tipo oddio l'ha trovata e io come deficiente l'avrò saltata ma come pochi penso che la price card di sto di sto box sia il baron de fleur corte al centro oddio mi sa abbiamo una collector sotto feri drago dai dark jeweler no more chaos space attenzione time refridor ti piace rubare il tempo è sto ladro maledetto beh di certo non credo troveremo il baron de fleur mamma mia che francesismo che francesismo francesismo è l'altra cosa summon limit oh eralt light l'asea e ice butter mamma mia che unboxing signori non scusate sto mevando perché sono stanchissimo e sta una giornata di lavoro molto difficile ma noi andremo spesso poi mi farò aiutare da un ragazzo della community di potenza per valutarle meglio però di base ripeto le metterò sul sul mio store ok ci dovrebbe oh oh attenzione attenzione 25esimo anniversario la luna eh eh tipo addio ho trovato la starlight io ho io penibus che non ci capisco veramente in cazzo veramente triste sta cosa vorrei informarmi di più su you niente ultimo pack signori oh magari mi ripago il box ok qua non credo ci sia nulla quindi vado abbastanza veloce quindi biru super code wake inverted infine ok abbiamo una hash not bad allora io avrei voluto trovare onestamente un veiler la tour veiler tour blossom diciamo carte un po' più inerenti al formati vecchi però diciamo non ci possiamo lamentare questa va bene con meme questa collector abbiamo cartine abbastanza interessanti quindi grazie di aver guardato il video fino a questo punto vi ricordo sempre lasciate un mi piace iscrivervi al comment e al canale scusate non al commento e ripeto se dovesse interessarvi a un unboxing e voleste l'apertura di un altro box di queste abbiamo un bel po' di mi piace il centro l'ho sparato per me male però non si sa mai ne apriamo un altro volentiero altri due grazie ancora per aver visto il video fino a questo punto arrivederci al prossimo video see you next time bui